Quasi tre mesi fa ho avuto un incidente abbastanza grave a questo dito Io ho rischiavo di perderlo e oggi vi spiego quello che è successo Quel giorno ero solo in barca a vela Ero andato al poetto a fare un giro e a trovare un amico Prima che voi diciate che da soli non si va in barca a vela Vi devo fare una premessa Non è stato negli ultimi mesi un periodo facile della mia vita Purtroppo sono cambiate alcune cose E quando cambiano cose importanti nella tua vita Comunque si sta male Ero già finito una volta a pronto soccorso per un mal di testa fortissimo Che non mi era mai successo nella vita Poi era passato Grazie alla barca ero uscito pure a superarlo Il lavoro, la barca Invece quel giorno sono uscito ma dentro di me non ero sereno Sapevo che tornavo a casa, non c'era una situazione semplice Questa cosa non mi faceva essere lucido come sono di solito Per farla breve comunque ero ancoraato al poetto Avevo fatto windsurf E a un certo punto aumenta tantissimo il maestrale 25 nodi, 30 nodi Sayonara era ancorata lì E quindi capisco che dovevo tornare a casa E questo già mi metteva un po' di ansia Salgo su Sayonara, accendo il motore E faccio le solite operazioni Sapevo che però all'ancora c'era un problema Perché c'era un giunto che mi faceva salire l'ancora storta L'avevo ordinato dal buon Vangelano Stor Che mi aveva considerato anche un ottimo giunto Purtroppo il corriere aveva avuto dei ritardi di 2-3 settimane E questo pezzo però era fondamentale Comunque mi si era storto la piccola parte che tirava sull'ancora E questo rendeva ancora più difficile tirarla su E ero lì con questo forte maestrale Provo a tirare sull'ancora Quindi immaginate la barca che scarroccia In maniera molto evidente E mentre lo fa io cercavo di tirare sull'ancora L'ancora veniva e si girava sempre storta Sbattendo su Sayonara mi dava fastidio Perché si levava un po' di vernice A un certo punto cercavo di aiutarla con la mano Non muovendo il verricello E davo piccole botte di verricello Ad un tratto Vi giuro io non mi sono neanche reso conto di quello che è successo Una botta di verricello Tocco l'ancora e in una frazione di secondo La mano viene risucchiata praticamente Tra l'ancora e l'acciaio del musone di Sayonara Quindi mi ritrovo così Incastrato con queste due dita Schiacciate nel metallo Male Pazzesco Guardo la mia mano La barca andava Dentro di me penso Mi sono sfracellato tutta la mano In quel momento però non so Ti viene un'adrenalina pazzesca Cioè dopo un primo momento di paura Sai che sei solo E dici vabbè devo fare qualcosa Mollo con la paura di vedere quello che avevo alla mano Quindi mollo l'ancora L'ancora cala Tiro fuori la mano E la punta del dito era sfracellata Staccata a falangetta E io vedevo la carne Vedevo l'osso Cioè non è stata una bella cosa Ho pensato immediatamente Era una frazione di secondo Cacchio come ci torno al lavoro Perché comunque il mio lavoro è un lavoro delicato Faccio il pilota E poi non so perché ho pensato A un altro youtuber Riccardo Zanetti Che ha avuto un incidente simile Con un motoscafo E lui pure ha perso le dita del piede E aveva raccontato questa cosa Io avevo ascoltato quel racconto con terrore Comunque sia vabbè Guardo il dito In una frazione di secondo Dico vabbè devo fare qualcosa Lo fascio Avevo del nastro isolante Dico dove vado ora All'inizio ho detto Mo me ne vado verso il porto Ho tirato sull'ancora Storta brutta Facendola sbattere Su Sayonara Ho detto però aspetta fermo Qui sul pochetto c'è l'ospedale C'è l'ospedale marino Che ha un reparto importante Di chirurgia della mano E sono tornato lì Mi sono riancorato Ho dato 30-40 metri In modo che l'ancora fosse salda Ho chiamato un mio amico Lorenzo Che lavorava come bagnino Ho detto Lorenzo guarda Vieni a prendere Porta un po' di ghiaccio Mi sono fatto un po' male Lui forse ha percepito Dal mio tono Che me l'ho fatto male E è corso lì Ho cominciato a chiudere la barca Avevo le canne da pesca montate Chiudo tutto quanto Lo metto dentro Intanto Lorenzo arriva Aveva una faccia Aveva già capito E mi ricordo La prima cosa dice E dice Tranquillo mio padre Quando faceva il militare Per sbaglio Si è sparato nella mano E ora è perfetta E non so Se fosse stato di consolazione Però io pensavo solo Al video di Riccardo Zanetti Che in realtà Aveva perso le dita E sapevo che comunque Mi ero fatto male E lì durante il viaggio Ho detto Non so se riusciranno A riattaccarlo Non so Cioè il dito era attaccato Per 5 mm Quindi arriviamo sulla spiaggia Lo chiamo mio padre E dico Papà guarda Mi sono fatto un po' male al dito Nulla di che Tranquillo Ho lasciato la barca Ancorata al poetto Puoi andare insieme a Giulio A prenderla A portare al porto In tutto questo Arriviamo davanti all'ospedale marino Con grande sconforto Scopro che l'avevano chiuso E quindi l'unica alternativa Era il brozzo Già col mar di testa Io Era andato in giro per gli ospedali E avevo visto una situazione drammatica Qui in Sardegna Code di 10 ore 13 ore Io ho detto Cacchio Se non arrivo in tempo qua Il dito Lo perdo Chiamavo la tombolanza La tombolanza Non sapeva neanche dov'ero E qui è successa la cosa Veramente che mi ha dato fastidio Cioè in Italia Non si pensa più a Salvare la gente Ma si pensa alla burocrazia La tombolanza Cominciò a dire Ma è successo in mare? Bisogna chiamare la guardia costiera? Di qua? Di là? Meno male che c'era Lorenzo Lorenzo alla fine ha preso la sua macchina E mi ha portato in ospedale Niente Comunque vado al brozzo E lì devo dire Ho trovato Persone eccezionali C'era una fila pazzesca Al pronto soccorso Io arrivo Praticamente con sto dito Mezzo fasciato Vado lì Dico guarda Io faccio il pilota Mi sono quasi Amputato il dito Vi prego Cucitemelo ora E loro si sono attivati In mezzo secondo Devo dire Da lì a 20 minuti Mi hanno fatto la radiografia Sono salito su Dopo ho trovato Laura Che era il medico Diciamo di turno In quel momento Mi guarda il dito Dico Ho visto di peggio Già lì mi ha un po' confortato E mi ha messo i punti Mi ha fatto un'anestesia Dico L'anestesia al dito Fa un male Pazzesco Quindi mi mettono i punti Tra l'unghia il dito Però in quel momento Spiegando come era fatta la barca Quanto costa Com'è Anzi mi metto il link Così vedete Quel giorno com'ero Ero sorridente Ma comunque avevo un po' Di tristezza dentro Però vi devo dire la verità Quei giorni in ospedale Mi hanno fatto bene Perché quella situazione difficile Che avevo a casa L'ho elaborata in maniera diversa Ho visto gente In fin di vita Gente senza le braccia Senza le mani E forse Quello che stavo vivendo a casa Non era nulla Dopotutto Quello che veramente conta È la salute E io ce l'avevo Cioè E quindi lì Ho capito tante cose E il dito Fa malissimo Cioè il dito È una delle cose Che fa più male Del corpo umano Perché pulsa E tutta la notte Tu senti Come se avessi il cuore Qui dentro Tutum 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 Però Il pulsare Era il segnale migliore Che ci potesse essere Perché il pericolo più grande Qual era? Era quello della cancrena Ovviamente il dito Si era infilato In mezzo alla ruggine In mezzo alla salsetine Batteri L'ho ficcato in bocca E il rischio che si infettasse Era enorme Quindi ero sotto antibiotico E ogni giorno Quando facevo la medicazione Io Controllavo Che non diventasse nero All'inizio in realtà Il dito era diventato nerissimo E lo vedete pure Da queste foto Però era solo dovuto Diciamo A tutto il sangue In eccesso All'unghia Che si era Completamente Pestata Altra cosa Mi sono dimenticato di dirvi Era la sensibilità Ai nervi Voi dovete sapere Che nella sfega Sono stato Ultra fortunato Perché in quel lembettino Che mi era rimasto attaccato C'erano praticamente Tutti i capillari Il nervo Il tendine Che non avevo reciso Mi ricordo Laura Quando sono arrivato lì Con sto dito fracassato Prende uno spillone Ma lo senti? E infilava sto spillone Io lo sentivo benissimo Faceva un male pazzesco Però ero felice Lo sento dai E quindi Passa un giorno Due, tre E alla fine Il dito c'era Non c'era la cancrena E stava andando bene Tutto questo però Entra in gioco Federica Che è l'ex proprietaria Di Sayonara Con cui siamo super amici E che Anche lei È un medico eccezionale E che sebbene Fosse a Parma Ha cominciato a dirmi Fai questo Prendi quello Fai quell'altro E devo dire Mi ha dato una grande mano Alla fine Dopo più o meno una settimana Mi operano Mi infilano due Fedrettini d'acciaio Per tenere fermo il dito Lì vengo dimesso La sera stessa C'avevo sti fili qui Con una gabbia Intorno al dito Terribile Che mi prudeva Da morire Mi faceva male Però in tutto questo Dai riuscivo ad arrabbattarmi Io avevo il controllo Ogni 4-5 giorni Però ogni giorno Trasgredendo Le indicazioni dei medici Tra cui Marta Che ringrazio e saluto Io me lo fasciavo Toglievo la pelle in eccesso Lo curavo E lo mettevo Il bagno nella mucchina Lo mettevo soprattutto all'aria Perché l'ossigeno È importantissimo Diciamo Per far rimarginare le ferite Poi il dito Si è saldato perfettamente Diciamo all'inizio Ho dovuto tenere Questi ferri Per 40 giorni Quindi immaginate Un'estate senza Praticamente uscire di casa Poter andare al mare Ho provato a fare qualche video L'avete pure visto Ma vi giuro Mi faceva un male Pazzesco Volevo andare sott'acqua Cioè c'avevo Sto pallino Andato sott'acqua Io non ci vado Ormai da 2-3 Mesi Cioè per me È stato terribile E niente Poi alla fine È arrivato il giorno Di togliere i ferri Mi fanno la lastra Invece l'osso Non si era saldato Ho detto Cacchio qua non si salda Io invece Sono sempre stato veloce Nel rimarginare Le mille ferite Che mi sono fatto Però Federica Me l'ha spiegato Ho detto Guarda ma te è normale Perché in realtà L'ossigeno è minuscolo Due fili dentro Non lo fanno rimarginare E quindi Me l'hanno tenuto Un'altra settimana Alla fine Poi me ne hanno sfilati Prendono ste pinze Terribili Cioè immaginate ste pinzone O scene Ti sfilano i fili In realtà lì poi Sei libero E me l'ho detto Usa il dito Basta È fatto E io piano piano Ho cominciato a dosare il dito Alla fine Ho fatto La mia Riabilitazione Un po' di fisioterapia Dolori all'inizio Pazzeschi E ora guardate Lo muovo tutto Ho fatto la visita Per tornare a volare Mi hanno fatto rivolare Quindi sto volando Già da un paio di settimane E il dito è così Dietro è perfetto Hanno fatto un lavoro Guardate Incredibile Davanti Purtroppo Manca ancora Un pezzettino d'unghia Che però Ricrescerà Ci vorranno Forse un annetto Perderò due tre unghie Ricresceranno Ma alla fine Vi posso dire la verità Non me ne frega Niente Quindi sono contento Di stare qui in barca E raccontarvi sta cosa Questa era Proprio la mia vita Mi mancava Ora voglio ringraziare Sicuramente Fede Voglio ringraziare I medici Laura Marta Che mi hanno dato Veramente Mi hanno salvato la mano E poi voglio ringraziare Adler Di Magellano Store Perché Si è veramente preso a cuore la cosa Mi ha chiamato Mi ha detto Guarda Matteo Ora risolviamo il problema dell'ancora Abbiamo messo insieme Una catena nuova Un giunto nuovo E ora l'ancora Sale perfettamente dritta E mi ha tolto E mi ha tolto Quello stress Di pensare Oddio Non riuscirò mai più Ad ancorarmi Perché avevo paura In realtà Come ho cambiato tutte le cose Sono tornato Sono andato da solo Ora riesco perfettamente Ad andare in barca Però Questo mi ha fatto Imparare due cose Si va da soli? Sì Secondo me Si può andare da soli Si deve anche andare da soli Perché Comunque Parte di noi Chi ama il mare Chi ama la vela La cosa importante È usare le giuste precauzioni Quindi I guanti Probabilmente Se avessi avuto i guanti Non mi sarei Fatto quella ferita Così grave E raga Non si infilano Mai le mani Nel verricello Quello che ho imparato Ma io che già sapevo Se le cose non funzionano Sti cazzi Scusate la parolaccia Rompete un pezzo di barca La barca si aggiusta Voi no Voi non vi aggiustate Io un insegnamento Voglio dare È Non rischiate mai Di farvi male Né in barca Né a pesca Né sott'acqua Perché L'incidente è dietro l'angolo Quindi Ragazzi Il mar non vi convince Se è una cosa Non è per voi Quel giorno Non la fate Voglio andare sott'acqua Però non mi sento benissimo C'è un po' di corrente Non ci andate Vado a pesca sulla scogliera Sono scivolato mezza volta Non mi sento sicuro Andatevene a casa Ora io spero Di non fare più cagate E quindi Di potervi raccontare Le meravigliose avventure Qui a bordo Di Sayonara Ragazzi Se il video vi è piaciuto Aiutateci magari Con un like Iscriviti al canale Ci vediamo alla prossima Ciao